Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM. Buona giornata a tutti, buona domenica, buona festa a tutte le nonne e nonni. Dunque abbiamo ascoltato assieme la cronaca di questa Santa Messa celebrata in San Pietro dall'Arcivescovo Fisichella in rappresentanza di Papa Francesco per la prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Voluta dal Papa proprio quest'anno, secondo anno della pandemia, perché appunto impariamo a stare vicino ai nonni e agli anziani. Il Papa nel suo messaggio per questa giornata pubblicato il 22 giugno ricorda che la vocazione dei nonni è custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Quindi ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana, specialmente chi tra di noi è più solo, deve ricevere come San Gioacchino la visita di un angelo. E durante la messa celebrata oggi in San Pietro, ma durante le messe che per indicazione del di Castero per i laici, la famiglia e la vita sono celebrate oggi nelle diocesi di tutto il mondo, nelle parocchie di tutto il mondo per i nonni e per gli anziani, c'è una memoria particolare per gli anziani che sono morti a causa del coronavirus. Tra pochissimo, a mezzogiorno, ascolteremo le parole di Papa Francesco all'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico. Abbiamo tempo, prima di arrivare a quel momento e prima di soffermarci con Dompino anche sul Vangelo di oggi che abbiamo sentito in Basilica poco fa con l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, abbiamo tempo per restare un po' sul senso di questa giornata. Il Papa ha annunciato con un angelo sul 31 gennaio, poi il 22 giugno scorso è stato anche reso noto il messaggio che il Papa ha scritto per questa giornata. Dompino dove indica una vocazione particolare per quelli che hanno la nostra età, come dice il Papa, perché ci si mette anche lui, custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate. Quindi è una giornata che ha degli ammonimenti per gli anziani, ma anche, come abbiamo sentito, per le giovani generazioni. Per i giovani e per gli adulti anche, che non dobbiamo dimenticare. Ma è molto significativa anche la preghiera che il Papa ha voluto formulare proprio per questa occasione, quando, mettendosi appunto dalla parte del nonno, prega perché vuole ringraziare il Signore per la lunga vita che è stata donata, ma anche per i sogni realizzati, dice, e quelli ancora da realizzare. Quindi non si smette di sognare. Il tempo dei sogni non è solo il tempo delle mele, cioè il tempo dei ragazzi, anzi, la parola sogno viene posta proprio come cifra anche di persone che hanno vissuto una lunga vita, che hanno saputo sognare, in parte realizzare i loro sogni, ma attendono anche che i sogni ancora non realizzati possano veramente diventare realtà. Dunque, in San Pietro si è celebrato per i nonni e gli anziani della Diocesi di Roma, l'Arcivescovo Fisichella, concelebrato con il Cardinal Farrell, prefetto del di Castero per i laici, la famiglia e la vita, e appunto con il Cardinale Vicario di Roma, De Donatis. Sentiamo un passaggio dell'Omelia di Papa Francesco, letta in Basilica da Monsignor Fisichella. Siamo passati tutti dalle ginocchia dei nonni che ci hanno tenuti in braccio. Ed è anche grazie a questo amore che siamo diventati adulti. E noi? Quale sguardo abbiamo verso i nonni e gli anziani? Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto compagnia, ho telefonato a un anziano per dirgli la nostra vicinanza e lasciarci benedire dalle sue parole. Soffro quando vedo una società che corre, indaffarata, indifferente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno sguardo, un saluto, una carezza. Ho paura di una società nella quale siamo tutti una folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo sguardo e riconoscerci. I nonni che hanno nutrito la nostra vita oggi hanno fame di noi, della nostra attenzione, della nostra tenerezza, di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro come fa Gesù con noi. In questa omelia, come avete sentito, Papa Francesco, l'omelia appunto letta dall'Arcivesco Fisichella, ma scritta da Papa Francesco, introduce anche il tema della tenerezza. Ricordava il Cardinal Farrell in sala stampa presentando questa giornata. Questa giornata ci parla anche della tenerezza dei nonni nei confronti dei nipoti, della guida sicura che possono essere gli anziani per tanti ragazzi spaisati, specialmente in un tempo come quello che viviamo, in cui i rapporti umani si sono rarefatti. La tenerezza ha dunque un valore sociale che la celebrazione della giornata vuole affermare. Ma Don Pino Lorizio, lei in un articolo pubblicato su Famiglia Cristiana ricorda anche che questa giornata è così opportuna, perché viviamo in una società nel mondo occidentale in cui ci sono sempre più anziani. E tra l'altro poi c'è anche un debito economico che a causa della pandemia si sta accumulando sui più giovani. Che non riusciamo ancora a ben quantificare, perché non sappiamo quanto peserà questo debito sulle persone che nascono in questo periodo, che dovranno comunque ripagare la società del debito che viene messo in atto per poter uscire dalla crisi. Quindi siamo in debito certamente verso gli anziani e verso i nonni, per la loro memoria, per i loro racconti, per la loro tenerezza. In quell'articolo cito un verso di Fabrizio De Andrè, i vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte, perché appunto la mano dell'anziano o dell'anziana è una mano delicata, non è una mano che afferra, è una mano che accarezza. E siamo in debito verso i giovani perché appunto stiamo accumulando debiti sulle loro teste, con la speranza che insieme possiamo veramente creare una società più equa, più giusta, anche nella quale ci sia quella che oggi si chiama un'economia circolare. Economia circolare che non è quella lineare dello spreco, uso e getto e poi quello che getto si accumula. Una delle notizie di questi giorni, c'è più plastica negli oceani di quanta non sia la vita che gli oceani ospitano e questo ci deve decisamente preoccupare. Una economia circolare è proprio l'economia del Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato e che il Papa ha commentato, cioè l'economia di chi non spreca nulla. Ecco, il Papa continuamente ripete di uscire dalla società dello spreco e dello scarto per poter appunto vivere in un mondo che sia sano come sani, come aveva detto anche all'inizio della pandemia Papa Francesco. Pretendevamo di vivere da sani in un mondo malato. Ecco che ci siamo ammalati. Nella preghiera che il Papa ha consegnato per questa giornata, si prega per la fine di questa tragedia pandemica, ma dipende anche da noi. Non sarà soltanto un miracolo se ne usciremo, ma tutto è consegnato alla nostra responsabilità, che non è solo la responsabilità personale o di una nazione, perché se di fatto non si dona il vaccino a tutti, siamo sempre esposti al rischio della fragilità del virus e della malattia. E quindi abbiamo una grande, grandissima, enorme responsabilità per la quale abbiamo bisogno del sostegno della parola di Dio, abbiamo bisogno della preghiera e abbiamo bisogno di nutrirci non solo del pane materiale, ma anche di quel pane che è l'Eucaristia e che possiamo di nuovo celebrare in presenza, dopo che per molto tempo, durante le fasi più critiche del lockdown, abbiamo dovuto rinunciarvi con grande rammarico di tutti. Don Pino, andiamo a sentire un altro passaggio dell'omelia pronunciata oggi dall'Arcivesco Fisichella in Basilica, omelia scritta da Papa Francesco per questa prima giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata questa quarta domenica di luglio, una ricorrenza introdotta dal Papa proprio quest'anno. Sentiamo. Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perché siamo figli di quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno custoditi lungo il cammino della crescita. Ora tocca a noi custodire la loro vita, alleggerire le loro difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare le condizioni perché possano essere facilitati nelle incombenze quotidiane e non si sentano soli. Chiediamoci. Ho fatto una visita ai nonni, agli anziani della mia famiglia o del mio quartiere. Ho prestato loro ascolto, ho dedicato loro un po' di tempo. Custodiamoli perché nulla vada perduto, nulla della loro vita e dei loro sogni. Allora c'è la parola memoria al centro anche di questa giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Don Pino, lei in un articolo appunto su Famiglia Cristiana scriveva se gli anziani la perdono i giovani non ce l'hanno molte volte. Eppure citando Heidegger lei diceva esiste un pensiero rammemorante che può nutrire il presente. Però intendiamoci bene Don Pino, non stiamo parlando di una memoria che significa rivolgersi nostalgicamente al passato, un passato che come scrive giustamente lei non ritorna, ma significa guardare indietro per nutrire il presente. Sì, nel senso che oserei usare un'altra immagine, la memoria delle radici delle radici autentiche e quindi il racconto è un po' come l'humus che nutre la pianta, che nutre la pianta nel suo presente la apre anche al futuro e senza appunto questo humus la pianta rischia di seccare. Noi non possiamo pensare di poter raccogliere i frutti della nostra cultura, della nostra società, anche quelli della nostra fede se questo albero della cultura, della verità, della fede non è piantato su un terreno ricco di humus che lo possa nutrire. E allora la presenza degli anziani è questa presenza che ci porta alla memoria e quando diventa tragica la situazione di chi si trova a dover convivere con persone anziane che a causa per esempio dell'Alzheimer perdono la memoria e allora diventa veramente una tragedia per tutti non solo per il soggetto affetto da questa malattia ma anche per chi si trova accanto a lui e quei pochi momenti che si riescono a recuperare dalla memoria dalle persone affette d'Alzheimer diventano ecco momenti importanti per la vita di chi li assiste e per la loro stessa vita. Tra l'altro ricordiamo che stiamo vivendo un anno che il Papa ha voluto dedicare alla famiglia Maurice Letizia proprio nell'anniversario della pubblicazione di questa esortazione apostolica post-sinodale e in vista della grande giornata delle famiglie del 2022 e quindi è una giornata che invita al dialogo tra generazioni intergenerazionale in famiglia e poi l'altra parola Don Pino su cui lei si soffermava è la parola sogno il Papa ha molto a cuore un passaggio del profeta Gioele che pronunciò questa promessa i vostri anziani faranno i sogni i vostri giovani avranno visioni e il futuro del mondo in questa alleanza tra i giovani che hanno visioni basandosi sui sogni degli anziani però sì certo e anche diventa importante sognare ma avere una visione significa avere una prospettiva cioè non pensare soltanto a breve termine all'oggi e al domani immediato ma anche avere il coraggio e la forza di pensare al futuro delle generazioni come diceva un grande statista il vero politico non è quello che si preoccupa delle prossime elezioni ma quello che pensa al futuro della società in senso più ampio ed ecco che come avevo modo anche prima di ricordare noi abbiamo due figure emblematiche di persone anziane che guidano la chiesa Papa Francesco con i suoi 84 anni anche con la sua convalescenza e la sua malattia per cui oggi non ha potuto essere presente alla messa ma sarà presente all'Angelus è un punto di riferimento è una guida sicura per la chiesa una guida che unisce la chiesa e per la nostra società e la nostra nazione è un presidente che ha appena compiuto gli 80 anni e che è veramente ha il polso della situazione e riesce a riportare una politica che a volte può sembrare degenerata al senso vero del bene comune in modo che non gli rimanda a dire ai politici ma li richiama continuamente al loro dovere di avere a cuore il bene comune di tutti e sono le 11.56 di questa domenica 25 luglio giornata mondiale dei nonni e degli anziani io saluto anche gli ascoltatori di Radio Luce Ita San Benedetto del Tronto Radio Nuova Trieste Radio Condivisione Palermo in Blu Radio e Radio Toscana che seguiranno con noi la cronaca di questo Angelus di Papa Francesco vediamo dalle immagini di Vatican Media i pellegrini che stanno riempiendo il sagrato della Basilica Piazza San Pietro per ascoltare le parole del Papa in questa domenica di fine luglio romana in cui il cielo è un po' grigio ma ovviamente il caldo si fa sentire quindi ascolteremo le parole del Papa e poi le commenteremo assieme a Don Pino Lorizio parole del Papa che sono dedicate alla liturgia del giorno questo passaggio del Vangelo di Giovanni che ci racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani che è stato anche al centro dell'omelia del Papa che abbiamo ascoltato una omelia che era proprio fondata su tre parole vedere condividere e custodire ci ha ricordato il Papa l'importanza della condivisione e della custodia sono proprio due verbi che sono ben legati alla ricorrenza di questa quarta domenica di luglio la diciassettesima domenica del tempo ordinario cioè questa attenzione per i nonni e per gli anziani che non a caso è stata un'intuizione spirituale del Papa proprio in questo tempo di pandemia in cui Don Pino lo sappiamo abbiamo visto delle vere e proprie tragedie nelle RSA per anziani che sono diventati improvvisamente dei focolai in tutto il paese già persone sofferenti perché non potevano ricevere visite si sono ritrovate purtroppo in luoghi di morte e questo sta facendo anche un po' ripensare a livello governativo il modo in cui sono assistite le persone anziane infatti si dovrebbe veramente riformulare questa modalità di presenza ma a parte l'impegno che ci deve essere a livello sociale politico e sanitario ecco c'è il tema proprio di questa solitudine per cui molti hanno affrontato la morte durante la pandemia senza il conforto delle persone care allora andiamo ad ascoltare le parole del Papa tra pochissimo poi la preghiera mariana dell'Angelus e poi il dopo Angelus e vedremo se il Papa magari dirà qualcosa chissà sul grande evento sportivo internazionale che si è aperto proprio venerdì scorso l'Olimpiadi di Tokyo di cui stiamo seguendo le cronache anche con soddisfazione perché per qualche minuto l'Italia è stata in testa al medagliere in testa insomma al terzo posto mi sembra quindi cosa non so quanto durerà però sicuramente sono delle Olimpiadi particolari ma la gioia delle medaglie resta quindi che dovrebbero dare un segno di speranza all'umanità ecco il Papa ecco il Papa proviamoci ad ascoltarlo